KiloWattTalk, l'approfondimento di RBI TV su energia e sostenibilità. Interviste, servizi e approfondimenti per mettere a fuoco la transizione energetica. KiloWattTalk, una produzione RBI TV con Vibes Video Backlit Studio in collaborazione con E'Nostra. Quanto vale una balena? Questo è un titolo particolare che accompagna questo volume appena pubblicato da ADD Editore qui in Italia ed è la traduzione di un testo scritto da Adrienne Buller che ci racconta di economia e di cambiamento climatico ed è come le due cose si incrocino non molto bene a dire il vero e quindi ne parliamo proprio con lei e quindi innanzitutto buongiorno Adrienne e grazie di essere qui con noi. Grazie mille per avermi. Allora, il titolo è molto interessante, in italiano è Quanto vale una balena? Perché partire da questo punto di vista? Dunque, è una bella domanda. Il titolo del libro prende ispirazione da uno studio del Fondo Monetario Internazionale che ho letto nel 2019, nel quale si cercava di rispondere ad una domanda come possiamo migliorare la salvaguardia delle balene? E la risposta a cui sono arrivati è che occorreva capire quanto fossero preziose per l'economia come giustificazione per la loro conservazione. Così sono arrivati alla cifra di circa 2 milioni di dollari per balena in base ad elementi come il turismo o il loro ruolo nell'assorbimento del carbonio importante per mantenere il clima stabile. Penso che questo studio colga bene il tema del libro, ovvero il capitalismo verde e il modo in cui la nostra economia e il nostro modello economico interpretino il clima e la crisi ambientale e riescano ad affrontarli solo attraverso il prisma dell'economia e del denaro. Se qualcosa non ha un prezzo, non riusciamo a capire il suo valore e quindi non riusciamo a proteggerlo o affrontarlo. Perciò quello studio sulle balene è un buon esempio degli argomenti che affronta il libro. Esatto, infatti tu ti concentri moltissimo sul lato economico, la politica economica e ho trovato molto inquietante che parli di molti documenti, molti dibattiti che il grande pubblico non conosce eppure siamo totalmente convinti di questa conclusione. Cioè i grandi cambiamenti possono avvenire soltanto se qualcuno ci guadagna. Ma come siamo arrivati a questo punto? Questa è un'altra bella domanda e penso che sia centrale per capire come superare la stasi in cui siamo finiti. Quindi la risposta semplice è che tutti noi, o almeno quasi tutti, probabilmente abbiamo vissuto la nostra intera vita in un sistema capitalistico. Non abbiamo mai conosciuto un sistema alternativo, un altro modello per organizzare le nostre società e le nostre vite. Perciò naturalmente siamo abituati a pensare che nel sistema in cui viviamo tutto sia mediato dal profitto e dal mercato. Perché è così che funziona oggi il capitalismo, o almeno è così che ci viene detto. All'atto pratico è molto più complicato di così. Ma quando si tratta di politiche climatiche ed ambientali, quello è il punto di partenza che viene dato per scontato dai legislatori. Abbiamo bisogno di far funzionare le cose attraverso il mercato e fare in modo che il settore privato ne tragga profitto. Si parte da qui invece di muoversi dalla sfida che abbiamo di fronte e dalle soluzioni concrete per affrontarla. Si parte dall'idea che bisogna passare dai mercati, ma questi possono aiutarci o no. Prendiamo ad esempio il sistema energetico. Non conosco la situazione italiana, ma nel Regno Unito dove vivo questo tipo di idee sono molto radicate perché non abbiamo conosciuto altro negli ultimi decenni. La transizione energetica deve avvenire attraverso il mercato e deve essere diretta dal settore privato. Ora siamo in campagna elettorale e si ricomincia a parlare di nazionalizzazione dell'energia e questo porta forti reazioni perché è molto radicato appunto il timore del grande Stato che interviene in questo tipo di ambiti. Ma penso che nel dibattito manchi la consapevolezza del ruolo importante che lo Stato ha già adesso in tanti sistemi che coinvolgono le nostre vite. L'energia è uno di questi. Nel Regno Unito, come in tanti paesi europei e negli Stati Uniti, invece di una proprietà pubblica abbiamo uno Stato che sovvenziona e sostiene il settore privato per cercare di convincerlo a fare gli investimenti di cui abbiamo bisogno. Perché appunto la posizione di partenza è che occorre partire dal mercato e quindi bisogna trovare un modo per costringerlo a fare quello che vogliamo. E trovo davvero interessante il fatto che abbiamo tutti questi sistemi in cui il mercato è ormai lontano dal concetto idealizzato di mercato libero. Qualcuno li descrive come boscaglia burocratica in cui sono coinvolti molti strumenti, regole, supporto pubblico, sussidi e regolamenti, tutto per cercare di far funzionare i mercati e governare questi cambiamenti tramite il profitto. Ma semplicemente non funziona. E quindi quali sono alcuni dei principali problemi, le più gravi conseguenze di questo tipo di ragionamento, di questo tipo di approccio? Beh, quanto tempo abbiamo? Dunque, voglio soffermarmi sul fatto che, per metterla in termini semplici, l'economia ambientale mainstream è una disciplina concentrata sulla creazione di modelli per comprendere le conseguenze del cambiamento climatico e della crisi ambientale. Perciò, se ci si occupa, ad esempio, della biodiversità, ci si chiede quali siano le conseguenze del fenomeno per l'economia, ma spesso non il contrario. Non ci si chiede qual è il ruolo dell'economia nello scatenare queste crisi. E tra l'altro, è proprio da questo tipo di ragionamento che è nata la disciplina dell'economia ambientale attorno agli anni 70, sulla spinta del più famoso economista in questo ambito, credo William Nordhaus. Non si tratta di un personaggio marginale che si occupava di economia come hobby. Il suo modello economico rispetto al cambiamento climatico ha giocato un ruolo dentro tutte le politiche climatiche o quasi. Ad esempio, prendiamo l'obiettivo dei due gradi centigradi che è al centro dell'Accordo di Parigi del 2015. L'intesa climatica internazionale è vincolante. Anche quella cifra deriva da uno studio economico di William Nordhaus del 1975. Era uno studio in cui lui, l'autore, vagheggia e mette insieme qualche idea sulla scelta tra l'azione per contrastare il cambiamento climatico, che lui immagina sia molto costosa, e le conseguenze economiche negative di un mancato intervento sul clima. In sostanza, cerca di ottenere un aumento ottimale di temperatura. E questo tipo di mentalità continua a farsi sentire. Quasi tutta la politica climatica ed ambientale è valutata come inevitabilmente dannosa per l'economia. Perciò occorre soppesare quale danno possiamo sopportare. Secondo me il problema è che in buona parte questo modello economico viene presentato come oggettivo, scientifico, quando in realtà non è affatto così. Torniamo a Nordhaus, che ha ottenuto un Nobel per l'economia proprio grazie al suo lavoro di decenni per sviluppare un modello che indica l'effetto del cambiamento climatico sull'economia. Questo modello dice che un aumento di 3,5-4 gradi sarebbe ottimale da un punto di vista economico quando la stragrande maggioranza degli scienziati ci dice che questo aumento avrebbe conseguenze catastrofiche per il nostro futuro. Com'è possibile? Beh, è il risultato delle semplificazioni ed astrazioni che lui compie nella sua analisi economica e che tendono mano a mano a distaccarsi dalla realtà. Potrei andare avanti per ore, ma prendiamo solo un esempio. Nei primi modelli di Nordhaus, lui prova ad ipotizzare quali sarebbero gli impatti economici del cambiamento climatico e nel farlo esclude circa il 90% dell'intero PIL statunitense, cioè tutte le attività che si svolgono al chiuso. Semplicemente perché al chiuso si può usare l'aria condizionata. Perciò tutte queste industrie, dalla manifattura all'assicurazione alla finanza, non saranno colpite dal cambiamento climatico. Ovviamente, dal punto di vista pratico, è una conclusione assurda. Ma questo è il tipo di semplificazioni e conclusioni che hanno condizionato e continuano a condizionare il modo in cui l'economia indirizza la politica climatica. All'interno del libro sottolineo alcuni punti che sembrano quasi paradossali, cioè ad esempio il concetto di equità, insomma, se bisogna ad esempio tassare le emissioni di gas serra, tassare la CO2, non avrebbe senso tassarla allo stesso modo per tutti, quando invece istintivamente sembra qualcosa di utile. Insomma, quali sono i problemi di questo approccio? Dunque, il carbon price, ovvero mettere un prezzo ai gas serra, è lo strumento politico ideale secondo l'economia mainstream. La premessa, in sostanza, dice che se mettiamo un prezzo da pagare per ogni tonnellata di anidride carbonica che viene emessa, allora per evitare costi extra, gli attori economici saranno motivati dal profitto e dal mercato a tagliare in qualche modo le spese, perciò saranno spinti a trovare una strada per ridurre le emissioni. Messa così, suona ragionevole. Non credo che si possa avere nulla da obiettare, anche perché segue un'idea che molti di noi condividono istintivamente, e cioè che chi inquina deve pagare, no? La persona che emette di più deve pagare. Quindi, di nuovo, in astratto, abbiamo un'idea che sembra avere senso. E per gli economisti l'obiettivo è quello di trovare un singolo e universale prezzo per il carbonio in tutto il mondo, in modo da diminuirne la produzione tramite l'economia. Ma qui arriviamo alla tua domanda e alla questione dell'uguaglianza, visto che si parla di un prezzo applicato universalmente. Ancora una volta, è un'idea che funziona bene a livello astratto, ma non appena provi ad applicarla, incontri ogni sorta di problemi. Potrei parlarne per ore, perciò provo a soffermarmi su un solo esempio. A causa di alcune delle cose di cui abbiamo già parlato riguardo ai modelli e alle aspettative economiche, non abbiamo nemmeno cominciato a trovare un accordo sul prezzo che dovrebbe avere il carbonio. Nell'ambito dell'economia mainstream si oscilla tra i 40 dollari per tonnellata fino a 14.000 dollari. Tutto dipende da quali sono le priorità, da cosa si pensa sia importante e da quali rischi siamo disposti a correre. E poi, chi deve sostenere il maggior peso della sfida alla crisi climatica? Insomma, gli economisti non riescono a mettersi d'accordo nemmeno sul punto di partenza. Tra l'altro, poi, nella realtà, la media attuale del prezzo del carbonio è attorno a 2,50 euro a tonnellata, quindi nemmeno lontanamente vicino alla stima più bassa ipotizzata dagli economisti. C'è un motivo. Trattando tutte le emissioni allo stesso modo, si finisce per sobbarcare il grosso del costo iniziale su tutti noi, quindi per lo più normali persone che lavorano. E intanto, trascuriamo gli investimenti critici di cui avremmo davvero bisogno per arrivare ad un'economia pulita. Quindi abbiamo innanzitutto uno strumento politicamente tossico, perché spesso i prezzi al carbonio sono risultati molto impopolari, soprattutto quando sono stati progettati male e impongono prezzi uguali per tutti. Ma inoltre, da un punto di vista pratico, queste misure sono basate sull'idea che se impongo dei costi, il mercato si innoverà facilmente e usciremo dall'economia ad alte emissioni. Così facendo, però, trascuriamo il fatto che molta della nostra vita è ancora ancorata a settori che producono abbondanti gas serra. Non solo l'energia, ma anche i trasporti. Molte persone non possono permettersi un'auto a basse emissioni e spesso il trasporto pubblico non è adeguato. Ma anche l'agricoltura emette molti gas serra, eppure non è qualcosa che possiamo eliminare con leggerezza. Abbiamo tutti bisogno di, beh, mangiare. Quindi ci si ritrova rapidamente a dover escludere tutti questi settori che non sappiamo come decarbonizzare, oppure quelli per cui le soluzioni ci sono, ma mancano gli investimenti, soprattutto pubblici, per concretizzarle. Alla fine ci si accorge che non basta mettere un prezzo, agitare una bacchetta magica e dichiarare che le emissioni se ne andranno. All'atto pratico, gli studi mostrano inequivocabilmente che quando vengono introdotte tasse per il carbonio, oppure mercati di scambio di carbonio, non si ottiene quell'innovazione che gli economisti immaginano. Quello che si ottiene sono invece aggiustamenti di emergenza o cambiamenti temporanei, come il passaggio dal carbone al gas. In definitiva, non stiamo toccando il cuore del problema, ovvero incoraggiare grandi investimenti in una trasformazione realmente strutturale dell'intera economia. Questo richiederebbe una pianificazione attenta, investimenti strategici e molti strumenti politici per essere sicuri che il peso della transizione non ricada sulle spalle di chi non se lo può permettere e che ha contribuito meno al problema. Perciò, secondo me, trattare ogni unità di carbonio allo stesso modo ignora il fatto che molte delle emissioni che creiamo attualmente sono necessarie ed utili alla nostra sopravvivenza. E invece molte altre sono eccessive ed inutili e sono quelle che dovremmo tassare per eliminarle. Ma ciò che deve arrivare prima di tutto questo è un intenso investimento nelle alternative. Penso sia questa la grande falla di un prezzo al carbonio, soprattutto se è applicata ad ogni attività allo stesso modo. Penso che è quello che trattare ogni unità di carbonio come la stessa misura, se questo fa senso. Assolutamente. Collegandoci a questo, all'interno del libro c'è anche tanti passaggi relativi al rapporto tra nord e sud globale in termini di neocolonialismo che proseguirebbe anche seguendo queste nuove green economy. Ci puoi spiegare all'incirca come funziona? Sì, sicuramente. Per me la forma che cerco di comprendere il capitalismo green è che la filosofia di fondo è la convinzione di poter trasformare tranquillamente le fondamenta energetiche della nostra economia, cambiare le fonti e i trasporti, mantenendo sostanzialmente intatto il nostro stile di vita e il nostro sistema sociale. Insomma, possiamo cambiare tutto tranne la struttura delle nostre economie e delle nostre società. Questa è la premessa. Prendiamo allora un esempio significativo, partendo dagli Stati Uniti, che rappresentano bene questo approccio, ma il discorso vale per molti altri paesi. Se prendiamo i trasporti, non si ragiona di nuovi modi con cui organizzare la mobilità, magari in modo anche profondo e di trovare gli investimenti per il trasporto di massa. No, perché l'idea è che possiamo lasciare le cose esattamente come stanno, soprattutto considerando che qualsiasi cambiamento deve essere guidato dal percorso che genera maggiori profitti. Perciò la politica tende ad incentivare un semplice scambio tra le automobili a combustione interna con quelle elettriche. Stiamo parlando di sostituire miliardi di automobili. Il problema è che le auto elettriche, come altri strumenti della transizione, richiedono tecnologie di stoccaggio dell'energia e quindi vaste estrazioni minerarie, potenzialmente dannose per territori e comunità indigene, come i minerali che si trovano in Congo o il litio in Sud America. Storie che tendono a rimanere nascoste. Questo dovrebbe essere invece una preoccupazione seria, qualcosa a cui pensare nell'ambito della transizione. Non si tratta di tagliare anidride carbonica da un foglio di calcolo astratto, cambiare il motore delle nostre auto e pensare che la storia finisca lì. Credo che invece dovremmo pensare agli impatti fisici e reali della transizione da un punto di vista sia ambientale che umano. Secondo me possiamo farlo solo se lasciamo perdere l'idea di inseguire il massimo profitto. Ad esempio producendo miliardi di auto elettriche per passare invece ad un buon sistema di trasporto di massa. Soltanto una di queste opzioni fa bene sia alle persone che al pianeta. Questo è solo un esempio delle dinamiche in corso ma spesso accade lo stesso con i carbon offsets che sono un modo per permettere ad aziende, persone o governi di mantenere il sistema economico attuale e ritardare il lavoro serio di riduzione delle emissioni. Invece magari si decide di piantare alberi. Questa è la strategia più classica. Spesso però sono azioni nocive per le comunità native. Ci sono stati i casi di pesanti accaparramenti della terra espulsioni di agricoltori dalla loro proprietà tutto in nome sia del profitto che del mantenimento dello status quo. Quando ci sono così tante opzioni alternative che potremmo seguire se solo ci affidassimo ad un minimo di immaginazione e di apertura. Questo ci porta dritti dritti verso la domanda finale. Come ne usciamo da tutto questo? In un minuto. Un full manifesto per il mondo. Penso si debba cominciare da un punto di vista astratto che poi è l'argomento centrale di questo libro. Cercare di infrangere questo modo di pensare ristretto e legato all'economia abbandonando i paletti non necessari che ci siamo imposti nel concentrarci su politiche basate sul mercato puntando alla massimizzazione dei profitti per i privati. Alcune di queste pratiche possono essere utili in alcuni casi ma generalmente credo sia una mentalità incredibilmente limitata che frena seriamente la nostra capacità di agire sul serio per risolvere la crisi climatica. Quello che ripeto più volte all'interno del libro è che dobbiamo porre al centro di ogni politica la questione della disuguaglianza e della giustizia. E non è qualcosa che dico soltanto per suonare etica e virtuosa come uno slogan vuoto. Certo, pensare a queste cose è importante anche di per sé ma è assolutamente necessario anche da un punto di vista pratico perché la crisi ambientale e climatica fondamentalmente è una crisi di disuguaglianza e se non affrontiamo il fatto che una piccola frazione della popolazione globale è responsabile di una proporzione enorme di emissioni e di degradazione ambientale oltre allo sfruttamento di risorse allora non arriviamo al nocciolo della questione. perciò credo che il tipo di politiche che tengono in considerazione questi principi tendano a non limitare semplicemente le emissioni ma finiscano per abbinare la transizione ad un'economia più verde con una serie di fattori che migliorano la vita delle persone che si tratti di salute, qualità dell'aria, energia, buon mercato, miglior accesso ai trasporti tutte cose insomma che hanno un valore concreto e che rendono davvero migliori le nostre vite ma ci possiamo arrivare soltanto se pensiamo in modo olistico. Ottimo, questo era solo uno sguardo molto rapido su questo libro ti avrei fatto centinaia di altre domande ma intanto grazie mille davvero e buona giornata. Allora speriamo di avervi dato qualche spunto e magari anche di avervi messo voglia di andare a dare un'occhiata a questo libro che appunto è stato pubblicato da ADD Editore Quanto vale una balena ringraziamo molto ADD Editore per la collaborazione ringraziamo come sempre E'Nostra che partecipa semmo nella realizzazione di questi contenuti grazie e che ci ha guardato e alla prossima, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.